Ciao a tutti amici miei, allora come avete letto dal titolo, questo è un video, non è un tutorial, ma un video sponsorizzazioni per voi. Non so se vi ricordate, ma all'inizio io le facevo le sponsorizzazioni, le facevo ogni domenica. Quindi ogni domenica facevo le sponsorizzazioni su YouTube per tutti gli utenti, diciamo, per i canali più piccoli. Siccome non potendole più fare per una questione anche di molto lavoro, di crescita di lavoro, che va benissimo, però, diciamo, non ho potuto purtroppo più fare le sponsorizzazioni, cosa ho fatto? Ho aperto un canale, diciamo, un account Instagram e praticamente che funziona in questo modo che adesso vi spiego. Allora, per farvi le sponsorizzazioni, il nome del canale su Instagram si chiama sempre Dottore Azuma, quindi basta che scrivete Dottore Azuma, c'è la foto di Frankie, vedrete, che ci ha preso spunto comunque, molti mi chiedono perché hai messo la foto, ma ci ha preso, l'ho spiegato alcune, parecchie volte, ci ha preso spunto per il laboratorio e quindi ho lasciato quella foto per farci il laboratorio. Allora, tornando a noi, come funziona? Funzionerà così. Allora, se io ad esempio mi entra un oggetto nuovo e devo ripararlo di qualsiasi utente, questo valido a tutti, ok? Qualsiasi utente mi manda un oggetto nuovo da riparare. Se è nuovo che io posso farci un video su YouTube, benissimo, farò il video su YouTube e in più la sponsorizzazione, quindi posterò una foto su Instagram, come sto facendo all'amico Silvano, che poi chi vuole mi dice puoi metterci Silvano da Napoli, da Genova, da Roma, cioè ce ne sono migliaia, non è che io tanto non vi preoccupate perché non metterò né indirizzi, telefoni, telefonini, niente. È normale, giustamente, quindi al massimo ve lo chiederò, comunque ci sentiremo su WhatsApp, perché come sapete sotto ogni video c'è il mio numero di WhatsApp per contattarmi per le riparazioni, quindi ci sentiremo prima e io vi chiederò, posso mettere il nome, posso farlo su Instagram, ok? Comunque su Instagram ve lo chiedo e ci sentiamo prima anche su YouTube e voi se mi date il consenso io lo farò. Se no, chi non mi dice no, non voglio niente, vabbè farò il video e non dirò la persona, non è un problema. Però penso che quasi tutti quanti diranno, vabbè dimmi magari il nome per citarmi nel video. Quindi in questo caso è l'amico Silvano e io farò sia un video che lo pubblicherò su YouTube e sia su Instagram, metterò un post, quindi una foto come questa che adesso metterò su Instagram appunto per sponsorizzarlo, per dedicargli il video. Ecco, sarà più una dedica o una sponsorizzazione se uno ha un canale YouTube. Ad esempio, mettiamo caso che qualcuno di voi è un utente, allora questo è un utente normale che non ha il canale su YouTube ma non ha video, quindi non è che devo sponsorizzare il canale perché non ha video, però oppure un utente che non ha neanche YouTube, può essere qualcuno qui in zona che mi porta qualcosa a riparare. Io comunque se ci farò il video su YouTube che non è una replica degli altri, ad esempio se voi mi mandate le Playstation con lo stesso guasto che io ho già fatto il video, non posso rifarci un altro video, altrimenti sarebbe un po' pesante due video della stessa cosa, un po' una menata tra virgolette, quindi cosa farò io? Se io non faccio il video, comunque la foto su Instagram la metto sempre, sia dell'utente che se è uno YouTuber farò in questo modo, qui. Quindi metterò un fogliettino, come sto facendo adesso? In questo caso all'amico Silvano io gli ho riparato il cippettino, questo qua che era bruciato, questi sono tutti alimentatori di switching, quindi giustamente essendo alimentatori di switching ecco come funzionano, quindi hanno questo cippettino che poi scalda da morire, che normalmente è il Weeper, è il TNY, cioè sono di vari, questo in questo caso è un TNY, è 277, però è equivalente dal 274 al 280 sono tutti uguali, cambia soltanto il vattaggio, ma sono tutti equivalenti. Quindi ho cambiato il cippettino che ce l'avevo, il fusibile e un condensatore che si era gonfiato, che è questo qui. non so se si riesce a vedere bene, ma comunque eccolo qui, si è gonfiato, se si vedete, eccolo qua. Non è esploso proprio, ma si è gonfiato. Quindi ho sostituito questi dei componenti con una minima propria spesa, una minima propria. Questa è una scheda di una caldaia, quindi vabbè non è che dico la marca perché sponsorizzo la caldaia, perché non sponsorizzo nessuno, io non faccio sponsor, però questa è una Sime in questo caso, però può essere un'altra marca, vabbè adesso non mi vengono in mente però, poi l'Ariello, cioè chiunque può essere, però non è che sponsorizzo nessuno, è solo per farvi vedere, per informarvi. Comunque torniamo a noi, che succede? Io oltre a, come vi dicevo, a fare la sponsorizzazione quindi nel video, su YouTube la farò anche su Instagram. Se siete invece degli YouTuber, ok, io scriverò proprio seguite su YouTube, qui tra parentesi metterò il nome del canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like, grazie a tutti. Quindi se è uno YouTuber in questo modo, se è un utente normale che non ha un canale da sponsorizzare, scriverò in quest'altro. Se streammate su Twitch è la stessa cosa, vi metterò come questo, quindi preparerò un altro foglietto così, solo che invece seguite su YouTube e metterò su Twitch, quindi sulla piattaforma che voi streammate per farvi la sponsorizzazione. Quindi, mi raccomando, il mio canale Instagram è dottoreazuma, lo stesso, voi vedrete sempre la stessa foto, poi c'è la foto del mio laboratorio, tutte le foto, io praticamente su ogni utente da adesso in poi che entrerà un oggetto farò queste sponsorizzazioni, quindi sia all'utente oppure al canale. Quindi in questo modo, questi sono esempi, questo è reale la sponsorizzazione, però quello è un esempio che metterò, logicamente adesso ho messo le parentesi, però tra le due parentesi metterò il nome del canale di chi sia, non c'è problema, o seguite su YouTube, su Twitch o su qualsiasi altra piattaforma voi streammate o fate live. Quindi questo è tutto, praticamente io volevo informarvi di questo, che ho aperto il canale su Instagram, ripeto, e si chiama dottoreazuma, lo ripeto perché magari alcuni mandano avanti oppure, quindi lo ripeto, come il canale di YouTube, la stessa cosa si chiama, e li metterò, sponsorizzerò, quindi farò o la dedica, in questo caso, all'utente dell'oggetto riparato se non è uno YouTuber, o che streammate, vi ripeto, su Twitch o altre piattaforme, su YouTube, oppure se è uno YouTuber, metterò proprio che fa live, stream, o ha un canale attivo, farò in questo caso la sponsorizzazione in questo modo. Ok? Quindi, ricapitolando, cosa succede? Che, allora, io su Instagram comunque metterò tutte le foto di tutti gli oggetti, con la dedica o la sponsorizzazione, come in quel caso, cioè, sia in questo modo che nell'altro, che seguite quell'altro foglietto. Se invece è un oggetto nuovo che mi entra, ad esempio è un oggetto che non ho mai riparato, quindi, ad esempio, entrerà la PlayStation 5, prima o poi entrerà, come entrerà in laboratorio, per dire, da riparare, speriamo che non si rompa nessuno, nessun oggetto, però, se, magari il picco termico, quello che sia, io è normale, non ho mai fatto il video, ci faccio un video. Ok? Oltre a taggarla, quindi a mettere un post, diciamo, su Instagram. Ok? Questo è tutto, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché metterò, appunto, dei post dedicati a voi, oltre su YouTube, ma per chi ha l'oggetto, ad esempio, già ce l'ho fatto il video su YouTube, in questo caso, lo metterò solo su Instagram. Ok? Però, se invece l'oggetto, ripeto, è nuovo, farò tutte e due. Comunque su Instagram ci andranno sempre le foto. Ok? Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!